Buongiorno e bentornati. In questo video vi presenteremo la scheda di un libro dedicato al videomicroscopio. Questa monografia del costo di 11,95 euro, l'editore è Libri Sandit. Vediamo un attimo il sommario. Il capitolo primo prevede il videomicroscopio come sistema formato da più parti. Si vede il microscopio, la telecamera e una descrizione sul video. Si parlerà degli adattatori, cavi e connettori, un secondo capitolo dedicato alla lente di ingrandimento come strumento ottico. Si parla anche dell'accomodazione, il principio della lente di ingrandimento, i parametri della lente di ingrandimento, poi si parla del microscopio per biologia, si parla della risoluzione degli ingrandimenti, il microscopio stereoscopico, altri tipi di microscopi. Si parla del sensore, sensore ccd, i parametri del sensore, telecamera uscita video, telecamera uscita computer, si parla dei video, del monitor, i parametri del videomicroscopio, la risoluzione, stampa, il campo di visione, la distanza di lavoro, l'ingrandimento totale, cosa osservare, l'impiego del videomicroscopio, misure, comparazioni e calibrazioni, un esempio di calcolo della costante micrometrica, si parla degli adattatori, connettori e risoluzione stampa, poi si farà un accendo al microscopio digitale e alcune note pratiche, accompagna volume un ricco glossario. Buona lettura!